Di fatto in seconda fila Reza Cadenando che concede un paio di posizioni alle avversarie, chiusura delle ali, di galoppo Regal, parte piano Reims-Cronos, ci lotta per il comando fra Rondine-Jet e risposta F, partita piano anche Ragna-Ox, terza in corda, va subito Roulette-B. Un gruppo allungato alle spalle di Gianni Targhetta che fa 13-9 di prima frazione e guida. Adesso Roulette-B sul primo rallentamento, scatta di fuori, abbandona la corda e la terza posizione e prova a proporsi al comando. Frazione iniziale in 29 spaccati e Roulette-B è nuovo leader al passaggio davanti al tribune dove la fila indiana va ad accorciarsi. Penultima Reza Cadenando, in ultima posizione l'ha riassestata Reims-Cronos, netto il rallentamento dopo 500 di gara, i 600 comunque in 44. Appena le posizioni si assestano Reza Cadenando si sposta di fuori. Non trova anticipi nella sua risalita, la favorita sta scalando il gruppo all'esterno, ovviamente prende ad andare comunque al comando Roulette-B. 32 e mezzo di frazione ma si è riaccelerato leggermente per finire la curva. Roulette-B in vantaggio sulla retta opposta, Reza Cadenando che va a far pariglia con risposta F. Poi ancora Rondine-Jet, fuori dalla quale cerca di andare Rania-Ox. Anzi poi si era mossa anche Reims-Cronos ma è quest'ultima che galoppa e finisce a tabellone. Rania-Ox resta in fondo al drappello che si è ricompattato ulteriormente. Anzi cerca di andare per Varchi-Luca-Talpo perché di fuori ai 400 conclusivi c'è andata Rondine-Jet. Sempre Roulette-B al comando, 30 e mezzo, la frazione in accelerazione per arrivare i 1.200 di gara. C'è di fuori Reza Cadenando che insiste per andare ad agganciare la battistrada. All'interno sempre risposta F. Nel finale, cavalli che si mettono a ventaglio, è calata un po' Reza Cadenando. All'interno sbucca risposta F, non c'è spazio per il numero 3 di Rania-Ox. Sul traguardo risposta F, batte di mezza lunghezza Roulette-B che ha allargato. Rania-Ox terza in piena spinta ma senza tutto il comodo di poter dare lo sprint. 32 la chiusa, 1.15.8, 15.6 la media del vincitore al chilometro. Gianni Targhetta da allenatore e guidatore per i colori della scuderia Gardesana con risposta F.